Quindi, all'interno della triede come puoi entrare? Dipende dal sesso che tu hai. Vabbè, provo a fare uno schema, provo a fare uno schema, se no si ti ammazza. Provo a fare uno schema, mi tocca prendere un quaderno, sprecare un foglio, vabbè. Allora, provo a fare uno schema, mi tocca sprecare un foglio, comunque vabbè. Allora, ne faccio uno semplice di schema, ne faccio uno semplice di schema. Allora, non so se si capirà comunque. Allora, la triede è questa. Guardate un attimino. La triede è questa qua. La triede è questa qua. E non si capirà. La triede è questa, dove R è colui che giudica la figura di regista. R è la figura di regista. A S è l'adulto significativo, è la persona, vedete o non vedete? Si vede o non si vede? È la persona giudicata, diciamo così. Questo è il giudicante. Questo è il giudicato. E questo è il trasgressivo. È chiaro o non è chiaro? Si vede o non si vede? Si vede o non si vede? Non so, si vede o non si vede? Oh, rispondete, si vede.